Saluti da Modena. Passeggiando nel cuore pulsante di questa magica città emiliana, tra le sue vie e sotto i suoi archi, si percepisce una storia leggendaria, fatta di gioielli architettonici di rara bellezza, come il Duomo e la Torre Ghirlandina, e misteri insoluti come le raffigurazioni sul Duomo dedicate a Re Artù e i suoi cavalieri. Una città che è storia, che racconta il dominio della casata degli Estensi, da Palazzo Ducale alle Gallerie Estensi, custodia e testimoni delle più belle opere artistiche italiane. Città lirica e Natale del mitico Pavarotti. Modena è anche la terra di sapori ed eccellenze. Il mercato storico Albinelli è il luogo perfetto dove scoprirlo. Al suo interno potrete gustare piatti sfiziosi tradizionali, come i tortellini e il parmigiano da provare con l'aceto balsamico di Modena.